Well guys, welcome to this new video, I am Eddie bomber I know that whether it is a White mountain college that's more real Russian guests please welcome to this new video sono Eddie Bomber Ah, regà, bella, regà Allora, è un vlog un po' interattivo Quindi, allora, ho i capelli un po' a passo Però, vabbè, quindi, allora, no, aspettate Guarda qua, aspettate, qua c'è la rega Bella ragazzi, benvenuti questo nuovo video Sono Eddie Bomber Bella ragazzi, benvenuti questo nuovo video Sono Eddie Bomber Bella ragazzi, benvenuti questo nuovo video Sono Eddie Bomber E' una magia, una fisica Scorta, eh Che se dovete andare a mangiare il sushi O ve portate la giacchetta che si apre E c'è tutta la scorta dei forchetti, dei cortelli C'ho la testa piccola, c'è C'ho la testa piccola Io, devo stringerlo Ok Ma che cazzo sta succedendo Regà, non riesco a mettermi un cappello, regà Eh, cosa? Ma cosa? Perché? Ma perché? Su il mio sito preferito Su Lean Your Language ragazzi Oggi dobbiamo indovinare il burundese Dobbiamo indovinare il mandarino Dobbiamo indovinare tutte le lingue Portugese Od malicious Ok Oh Oh Ah Oh Oh Eh Mm 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 Domicili Soprattutto sceco No Dai E' Comportamento Duco Comportamento Un Stato Un Fatto Eh Matto No Pazzo No, quando ti si rompe il telefono, cosa succede a te, ecco? Vado dai, cinesi. Sì, è buono. Ecco. È cotta. È cotta. È cotta.